Se nei primi 15 giorni del mese l'allarme alga tossica è stato moderato, nell'ultima rilevazione dell'ARPA le concentrazioni sono aumentate e si sono estese oltre il limite sull'aria da Giovinazzo, nei pressi di Riva del Sole, fino a quartiere San Giorgio e Santo Spirito di Bari, in corrispondenza di Lido Trullo e Lido Lucciola. Una concentrazione elevata si è rilevata anche a Torre Columena, nei pressi di Punta Prosciutto, ma anche a San Pietro in Bevagna, nel Tarantino. Tra le aree contaminate, seppur con concentrazioni inferiori, troviamo anche l'area di Otranto, Molfetta, Torre Canne, Monopoli, nei pressi del Castello di Santo Stefano e Pulsano. L'alga giunta in Puglia quasi vent'anni fa si frantuma sulle rocce della costa, liberando la tossina nell'aria, provocando malesseri transitori come riniti, congiuntiviti, problemi alle vie respiratorie, febbre e dermatiti. Questi si verificano specie nei soggetti più fragili e allergici. L'ARPA per questo invita ad evitare la balneazione e a non sostare nelle zone rocciose, specie nelle giornate con forte vento, come queste con la presenza del maestrale, e a non consumare frutti di mare, specie e ricci provenienti da queste aree.